Noi non siamo a priori contro la nuova istituzione delle soste a pagamento, però abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio straordinario per poter discutere insieme al sindaco quale possono essere le soluzioni alternative. Sappiamo di una nota mandata dalla Confcommercio locale al sindaco a firma di alcuni commercianti bagheresi che chiedono di rivedere la nuova istituzione delle soste a pagamento. Purtroppo il sindaco e la sua amministrazione non hanno risposto e quindi chiediamo che anche in consiglio comunale si possa discutere di questa nota. Riteniamo che ci sono alcune zone della città dove si possa effettuare questo nuovo servizio di sosta a pagamento, ma avere realizzato la sosta a pagamento quasi per l'intero territorio cittadino soltanto per fare cassa, peraltro somme che entreranno non all'interno delle casse del comune ma entreranno nelle casse di una società per azioni che ad oggi non ha prodotto nulla ci sembra un'ulteriore tassa a scapito dei cittadini. Abbiamo visto che in mediamente un cittadino bagherese dovrebbe pagare 180-190 euro l'anno per avere un pass, il che è abbastanza vergognoso perché in altre città dove c'è l'istituzione del servizio della sosta a pagamento il pass è gratuito. In più in alcuni centri nevalgici come per esempio noi siamo qui davanti l'ASP dove appunto coinvolge un territorio abbastanza ampio non soltanto di bagheria ma dell'interio circondario, ci sono le zone blu, è molto difficile posteggiare, ci sono delle attività commerciali, pensiamo agli operai che lavorano all'interno di queste attività commerciali. Noi chiediamo al sindaco soltanto di fermarsi un minutino e discutere con la città, rimodulare il servizio e ripartire. Ma questo atteggiamento così aggressivo nei confronti della cittadinanza e insistere senza dialogare con la città ci sembra una ripicca che la città non merita assolutamente. Per cui chiediamo al sindaco e alla sua giunta ai consiglieri del momento 5 Stelle di fermarsi un minutino e ascoltare la città. Già sabato inizieremo una raccolta firme ad Aspra perché riteniamo che quella zona di bagheria sia la più colpita in modo negativo e credo che ci possano essere le rigadute negative nei confronti dei commercianti e anche dello sviluppo turistico della frazione marinare. Quindi il nostro intento è non fare qualcosa contro ma qualcosa per, chiedendo al sindaco di fermarsi un tantino. Grazie a tutti.